la vera mi piace domani ciao caro grazie mamma che commenti e ogni tanto si sei bravissima ma insomma dai ci sta le vendi i tortellini ma guarda sto coglione guarda la brutta faccia da ebete c'è veramente come se queste persone venissero pagate cosa le costa cioè io non ho pure di dire che ho only fans e dico iscrivetevi iscrivetevi su mio instagram e troverete e troverete i miei link in bio qual è il problema sì sì tutti sul sito blu subito fiore blu come il tuo distintivo ciao vincenzo buonanotte sogno d'oro buon marley bad boys bad boys what you gonna do what you gonna do they come for you ah devi passare per i more fans per sito blu come dice igor il russo no ma veramente come se io vengo chiedergli non so i soldi o cioè ho detto se volete visto che mi state scrivendo mi state seguendo qua se volete seguirmi anche su instagram va bene poi se volete anche se volete seguirmi anche lì cosa cazzo ho detto grande noemi adoro adoro la solidarietà femminile ciao daniele buonasera ti ho scritta fiore mi devi seguire su instagram e mi devi iscrivervi su olifanz basta devi farmi vedere che ci tieni a conoscermi almeno a iscrivermi al mio sito e via bravo questo è il mio instagram ma certo per me la donna è libera di fare ciò che vuole ma no ma deve essere così come uomo è libera di fare quello che vuole giustamente anche la donna deve essere libera cioè noi siamo tanto moriremo tutti raga moriremo tutti siamo nati per morire alla fine quindi per quanto tu puoi fare la gallina il pavono ma alla fine nel brodo te che va sempre e anche come si dice anche sotto bellissimo coda di pavone si trova un comunissimo bucio del culo di una gallina quindi quindi parliamo di niente franco 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 no io ho paura ho paura che non temo i copi cosa speriamo di no nessuno ragazzi seguitemi su mio instagram elizabeth.shosta è questo qua ma è ovvio che sei ancora giovane non ti dico adesso ma comunque la cosa più certa della nostra vita è che moriamo fine cioè quello può come sicuro perciò fiore guarda non so quanta probabilità hai di uscire fuori con me perché se tu non stai vedendo che io sono in live come cazzo faccio a risponderti a messaggi ci sei ci fai magnana hasta luego eh non si sa quando mi hai scritto ti ho seguito su IG e non rispondi ai messaggi se sono in diretta ma tutto a posto tu o io sono due mesi che ti ho seguita cosa ti costa seguirmi su IG come vuoi corteggiarmi se non ti è per fare abbonamento e per scrivermi là visto che non ti cago là su Instagram io se sono interessata da una persona e c'ho il contatto diretto ci provo non è un aperitivo che ti rovina la vita per un mese di stare sui minori fans con me poi ripeto non so che corteggiamento dove vuoi uscire anche se dovessi uscire cosa fai? mi porti a prendere un caffè ma non so che ma non Noelle, ma che carina Ma quindi mi seguo da X on the Beach Adoro, grazie mille Buonanotte e sogni d'oro Sei una grande Ragazzi scrivete su Instagram Per un aperitivo Ripeto No, no, no I think another One hour One hour and I go to sleep Renny, please Follow me In my Instagram And follow me And see my link in bio Gelato I like gelato Ciao Africa Weekendecortina Hola Villa E' proprio Ti're tos Ciao